Ciao a tutti, sono ShokinZunk, il nuovo video, l'episodio 2 dei regali di Natale, abbiamo anche il gatto come spettatore perché voleva fare il video con me, mi ha letto, adesso sono andato, vabbè, per prima di tutto iniziamo con l'Apple Pencil, per chi non lo sappia, è una penna per scrivere note sull'iPad Pro, che l'iPad Pro c'è di 2 dimensioni, una volta in 3 dimensioni, il primo iPad Pro che è uscito qualche anno fa, un anno fa o due anni fa, non mi ricordo, era da 9,7, adesso li vengono solo più da 10,3 pollici e 12,5 se non mi sbaglio, il mio è da 10,5, apriamo l'Apple Pencil, questo è come si apre, design by Apple in California, allora, qua dentro troviamo i ricambi della penna, perché magari perdete i pezzi, e poi vari libretti di istruzioni, che vabbè, intanto non lo sappiamo da nessuno, e qua c'è anche lo stemmo, non penso che, forse è un adesivo, no, non è un adesivo, e adesso vi mostro il pezzo forte, la penna, che è questa, qui, se lo stacchiamo, c'è il punto dove si, allora, attacchi all'iPad per ricaricarla, forse anche configurarla la prima volta, e questa è la penna, adesso vi apro l'iPad, lo vedete, forse è un po' più in alto, perché io, così non vi faccio perdere tempo, beh, ora faccio più veloce, ok, questo è il coperchio, iPad Pro dentro non c'è niente, e ora, qua, c'è l'iPad Pro, bellissimo, vediamo se riesco a farvi vedere lì dietro, se volete poi vi faccio vedere un'accensione, ma in un altro episodio, forse, poi, questo è il caricatore, per l'iPad, poi ci sono tutti i libretti degli iPad che mettono sempre, anche se di solito la gente lo usa molto, e questa è la spina che si attacca alla corrente, dove poi attacchi il pezzo che vi ho fatto vedere prima, questo pezzo si attacca alla spina e l'altro si attacca all'iPad, ah, è uguale alla, ho notato che questa volta è uguale all'attacco dell'iPhone, perché di solito quello dell'iPad è più grande, quello del mio vecchio iPad che ho, è una scatola, non c'è niente altro, vabbè, l'ho messo tutto, a rivedere, bravo!